A Proda a Manduria, la seconda edizione della Festa dell'Architetto, che è istituita lo scorso anno dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori per celebrare i 90 anni della Fondazione dell'Ordine, è stata avviata a Taranto lo scorso 26 giugno. Grazie ai consiglieri rappresentanti della provincia, l'evento non si tiene solo nella città capoluogo. A Manduria, da corso 20 settembre, Arco di Sant'Angelo, sino a Piazza Garibaldi, ma anche nel chiostro di Palazzo Comunale, in Piazza Ciraci, l'evento in tutte le sue forme e iniziative. Architettura e felicità, questo è il messaggio che gli architetti hanno voluto lanciare, per far sì che la professione degli architetti riprenda la scena diventando protagonista del territorio. Siamo col Presidente, Dottor Prontera, qual è la finalità di questa vostra iniziativa che sappiamo essere iniziata già da qualche giorno a Taranto, ma vi siete anche spostati in provincia? La festa nasce lo scorso anno per volontà del nostro Consiglio nazionale che ha festeggiato i 90 anni dell'istituzione degli ordini professionali in Italia. Noi abbiamo l'anno scorso voluto cogliere questa occasione, questa solicitazione del nostro Consiglio nazionale per declinare una festa a livello locale. L'abbiamo organizzato lo scorso anno tre giorni e quest'anno invece abbiamo voluto quadruplicare gli sforzi e anche le tappe, perché oltre Taranto la festa quest'anno abbraccia tre comuni della provincia. A Martina Franca siamo già stati lo scorso 28 e 29 di giugno, oggi e domani siamo a Manduria e il 10 e l'11 saremo a Massafra. Sono una serie di iniziative di vario genere, sono iniziative prettamente culturali, ma non soltanto, perché ci saranno anche momenti di approfondimento, momenti di riflessione sui temi della nostra professione e sulle tematiche che riguardano il territorio. Qui a Manduria avremo una serie di iniziative che poi verranno puntualmente illustrate dalla collega e che ci porteranno a diretto contatto con i cittadini, perché questo è il nostro obiettivo. L'obiettivo della festa dell'architetto è quello di uscire dagli studi professionali, incontrare i cittadini, incontrare non soltanto i nostri colleghi, ma soprattutto gli abitanti delle realtà che andiamo a visitare con gli stand della nostra festa, per portare ai cittadini i nostri temi e comunicare la nostra professione. L'architetto non solo disegna, qual è il ruolo predominante di questa vostra professione? Un po' riordinare anche la città, credo. L'architetto è una figura professionale molto poliedrica e molto dinamica, sia per ragioni che derivano anche dalla formazione culturale e universitaria, sia per la predisposizione professionale che come professionisti noi abbiamo. L'architetto si occupa non soltanto di progettazione, ma si occupa di design, si occupa di urbanistica, si occupa di pianificazione, di paesaggio, di restauro, quindi come puoi immaginare la professione è una professione molto vasta. E in questo noi tenteremo, in questi giorni della festa, anche di far apprezzare ai cittadini quali sono le nostre caratteristiche e le peculiarità della nostra professione. Passiamo quindi adesso a conoscere meglio il programma di queste due giorni. Dicevo prima un programma davvero intenso. Sì, è molto intenso, intensissimo direi. Noi abbiamo organizzato una serie di eventi che partiranno appunto con la mostra Architettura e Felicità dall'arco di Sant'Angelo fino alla piazza. In piazza, in serata, ci sarà un evento di video mapping, Architettura e Video Mapping, che consiste nella proiezione sul prospetto del comune, quindi della casa comunale, di un video tridimensionale che avrà tutta una serie di effetti che sicuramente incuriosiranno chi guarda, sì, lo spettatore. Nel Chiostro del comune avremo tutta una serie di esposizioni, esposizioni fotografiche e pittoriche e anche una serie di esposizioni che sono state realizzate dagli architetti che non fanno solo architettura, ma fanno anche arte. Per far capire che l'architetto è versatile, per far capire che l'architettura si contorna anche dell'arte. Avremo un evento, una tavola rotonda e si discuterà di disabilità, di barriere architettoniche, che è il superamento delle barriere architettoniche, parleremo di buona architettura, di come le barriere architettoniche possono essere superate con piccoli accorgimenti. E quindi, insomma, gli eventi sono tantissimi, ora non li sto... L'ultimo è anche uno dedicato all'ambiente, allo scarico a mare, che riguarda proprio prettamente Manduria. Sì, questa sera, verso le otto e mezzo, ci sarà una tavola rotonda e si discuterà proprio del depuratore consortile, e quindi di questa opera che si andrà a fare, che non tutti i cittadini vogliono, insomma, nel nostro territorio. E sicuramente è un importante momento per anche confrontarsi con la popolazione, certo. Un impegno intenso e un lavoro, un contributo notevole, quindi. Sì, un contributo notevole da parte dei colleghi che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento. E voglio ringraziarli tutti, voglio ringraziare l'architetto Bruno Luisa, l'architetto Zingarello Passanisi Francesco, l'architetto Milizia Marica, l'architetto, vediamo se mi sono dimenticato, Gianni Nisi, Emi Pichierri, Andrea Casto. Scusate, ma non li ricordo tutti. Sì, li abbiamo detti tutti.